Furore sui social Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi a Milazzo Il grande fratello è terminato da tempo, ma Beatrice Luzzi continua a catturare l'attenzione sui social. L'ex concorrente del reality show ha annunciato una breve pausa dai social per prendersi qualche giorno di riposo. La notizia ha immediatamente scatenato i fan dei Beabaldi, il gruppo di sostenitori che tifava per la coppia formata da Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi condotto da Alfonso Signorini. «Ciao amici miei bellissimi, mi prendo qualche giorno di riposo perché sono in prima linea da dieci mesi e inizio a craccare. Resto qui fino al dodici, quando ci sarà la grande serata a Milazzo», ha dichiarato Beatrice Luzzi e i suoi follower. Naturalmente, i fan hanno subito pensato a Giuseppe Garibaldi. Nonostante i conflitti nella casa del grande fratello, una volta fuori, i due sono stati spesso visti insieme, facendo credere a molti che la loro relazione sia proseguita lontano dalle telecamere di Cinecittà. A fine giugno, Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi sono stati avvistati insieme a cena, e le foto del loro incontro, in cui brindano con bicchieri di vino bianco, sono diventate virali. Dopo l'annuncio dell'attrice, l'hashtag Beabaldi è diventato tendenza su X, dove molti ipotizzano che Beatrice e Giuseppe stiano trascorrendo le vacanze insieme. Questa mattina, Giuseppe Garibaldi ha pubblicato un video con il mare sullo sfondo, dichiarando fate l'amore e non la guerra. Questo ha ulteriormente alimentato le speculazioni dei fan dei Beabaldi. Su X, un utente ha commentato, Tutto il fandom Beabaldi così adesso, accompagnando il messaggio con un video in cui i due ballano insieme al grande fratello. Molti fan sono convinti che Beatrice sia a Milazzo e che Giuseppe, sebbene impegnato con il lavoro, sia anche lui lì. Un utente ha scritto, Lasciamo stare tutte le cose brutte. Tutte le persone che stanno rompendo le piasterisco asterisco e godiamoci il pensiero reale che Bea è a Milazzo. Giuseppe è a Milazzo anche se ieri e oggi per un lavoro si sta spostando ma è lì a Milazzo. Quindi 2 più 2 fa sempre 4. Pensiamo a questo cancelletto Beabaldi. Alcuni sono sicuri che i due non posteranno mai foto intime sui social, come spesso accade. Se pensate o volete che postino sul letto a darsi i bacini, non avete capito niente, loro sono un'altra storia. Sempre Beabaldi. Grazie a tutti.